Boe è un quartiere di Slonon appartenente alla Municipalità del Borough of Tower Almets. È prevalentemente un quartiere residenziale che si trova a 7 km ad est da Cering Cross. Originariamente l'area si chiamava Stratford e Boe era l'abbreviazione del nome medievale Stratford-Hatte-Boe dove la parola Boe faceva riferimento ad un punto costruito nel XII secolo. Boe è adiacente all'Olympic Park dove si sono tenute le Olimpiadi nel 2012. Una sezione del quartiere infatti fa proprio parte di questo parco. Boe ha subito un'intensa riqualificazione urbana negli ultimi anni grazie agli investimenti provenienti dai giochi olimpici nel 2012 che si sono tenuti nella confinante Stratford. Tali lavori hanno portato una miglioria generale del quartiere, incluso la sostituzione di case popolari con edifici moderni. Vivere a Boe oggi significa vivere in zona 2. Il centro di Londra si raggiunge in meno di 15 minuti tramite tube e ad una sola fermata si arriva a Stratford dove è presente Westfield, il centro commerciale più grande d'Europa. Ma ora parliamo di trasporti. La stazione dell'Hunderground più vicina è quella di Boe Road seguita da Bromley by Boe. Entrambe situate su District Line e Hammersmith & City Line. Con la District che attraversa la città da est ad ovest si arriva in 5 fermate a Town Hill e 12 fermate a Westminster senza effettuare alcun cambio. L'Hammersmith & City Line invece attraversa la città sempre da est ad ovest passando però per il nord del centro fino a riscendere ad Hammersmith. Da Boe Road tramite l'Hammersmith & City Line arriverà in sole 5 fermate a Liverpool Street da cui partono anche tutti i treni per gli aeroporti. Connessa alla stazione di Boe Road troverai la stazione di Boe Charge dalla quale è possibile prendere la DLR che va a nord verso Stratford e a sud verso Canary Wharf. Boe è servita da numerosissimi bus sia di giorno che di notte che la connettono perfettamente con il centro e con i quartieri più periferici. In descrizione sotto questo video troverai il link dove sono elencati tutti i bus che passano per questo quartiere oppure se stai guardando il video da Facebook troverai il link nei commenti. Boe è attraversata dalla Seacole Superhighway CS2 è una pista ciclabile a scorrimento veloce che connette Stratford ad Algate. La pista è stata costruita nel 2010 ma successivi lavori che si sono completati nell'aprile 2016 l'hanno resa a corsie di marcia separate. A Boe ci sono anche altri percorsi ciclabili come quello che costeggia l'Earthford Union Canal e l'Ivalley Park. Entrambi costeggiano le rive degli omonimi canali e sono lontani dal traffico cittadino. Se vuoi quindi tenerti in forma non avrai che l'immarazzo della scelta. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace ed iscriviti al canale. Se vuoi inoltre essere aggiornato su tutte le novità di Londra clicca sulla campanella accanto al tasto iscriviti assicurati di selezionare il tasto di spunta e clicca salva. Per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video e ciao lune!